Purtroppo caro Pupo, la Brandi non è soltanto il tuo sogno erotico, è anche il sogno erotico di un altro uomo perché c'è qualcun altro, Matilde, che ha lasciato qualcosa per te nella lavatrice. Se vuoi entrare, tu prima entra e poi io ti spiego. Aspetta, vado eh? Vai, vai. Ma entro tutto qua? Vai, tutta dentro, bravissima. Oh, ecco, guarda che immagine meravigliosa. Che spettacolo! Allora... Oddio, andate all'anile! No, 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 resta lì perché è partito il lavaggio, è partito il lavaggio. Allora tu intanto, in mezzo a tutto... Ma, ma mi sto... ma no, lo faccio uccide! In mezzo a tutto quel casino... Ma ragazzi, aspetta, ma di cosa devo trovare? Devi trovare una t-shirt bianca che un tuo ammiratore ha lasciato per te. All'aspetta! Una t-shirt bianca, una maglietta bianca. Prova a guardare, Matilde, c'è una scritta tutta per te in questa t-shirt. Finché non la trovi non puoi uscire. Eccola lì, l'ha presa, l'ha trovata! Ah, è questa! Eccola! È una vista che ti aspetta! Adesso puoi uscire! Oddio!